In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi, Amen, Sialodato Gesù Cristo, Maria Sede Sapientiae, Ora Pronobis. Carissimi fedeli, sono qui per il commento al Vangelo della prossima domenica, che è la quarta domenica di Quaresima, la cosiddetta in letare, oppure domenica mediana, cioè che sta a metà della Quaresima. Perché si chiama in letare questa domenica? Perché nell'antifona d'ingresso la prima parola è questa, letare, poi segue Jerusalem, Jerusalem, esulta, Jerusalem, accorrete voi tutti che l'amate, trassalite di gioia voi che foste immersi nella tristezza, tripudiate e saziatevi alla fonte della vostra consolazione. Quindi è un invito a rallegrarsi, a essere nella gioia. In questa domenica è possibile il suono dell'organo, i fiori sull'altare e i paramenti rosacei per i sacerdote e i ministri. Quindi è veramente un invito che la Chiesa fa a rallegrarsi, a riempirsi di gioia, perché siamo in cammino verso la Pasqua, la Pasqua di Ressurrezione. La Pasqua è la festa in cui Gesù ha sconfitto, ha sconfitto definitivamente il diavolo, quindi il peccato, la morte che è conseguenza del peccato. Ha riportato la vittoria e grazie a questo noi, come dice San Paolo nell'Epistola, non siamo figli della schiava, ma siamo figli della libera. Richiamando un passo dell'Antico Testamento, in cui Abramo ebbe un figlio dalla schiava, Agar, che chiamò Ismaele, e un altro figlio, invece, dalla donna libera, che era sua moglie, Sara, e si chiamava Isacco. Ebbene, noi siamo figli della donna libera, perché Cristo, dice San Paolo, ci ha liberati perché restassimo liberi. Quindi non lasciatevi di nuovo, dice San Paolo, imporre il gioco del peccato. Gli ebrei che hanno rifiutato Cristo sono rimasti nella schiavitù del peccato, pur avendo i dieci comandamenti, ma questi servono poco se non c'è la grazia di Cristo. Noi, invece, siamo rinati proprio dalla morte e dalla ressurrezione di Cristo, cioè dalla sua vittoria sul peccato e sul demonio. E siamo rinati nel battesimo, nell'Eucarestia, nei sacramenti di vita. E' proprio sull'Eucarestia, sul battesimo, che verte il Vangelo di questa domenica, tratto dal Vangelo di San Giovanni, capitolo 6, versetti dall'1 al 15, cioè la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Il Vangelo inizia con Gesù e i suoi discepoli sopra un monte, si siedono, l'erba è folta, quindi è primavera, e vicina la Pasqua, dice il testo del Vangelo. Anche qui c'è una nota di gioia, di speranza, di fiducia. E' vicina la Pasqua, la Pasqua dei Giudei, ok, ma in quella Pasqua Gesù inaugurava un'altra Pasqua, ben migliore e superiore rispetto a quella dei Giudei. I Giudei ricordavano il passaggio del Mar Rosso e la liberazione dall'Egitto, Gesù invece farà un'altra Pasqua, dal peccato alla grazia, dalla morte alla vita. Ebbene, intorno a loro c'è tanta gente che nel deserto non hanno niente da mangiare, quindi si pone il problema, è Gesù che pone il problema. Come faremo a sfamare tutta questa gente perché non se ne vada a casa senza forze e affamata? E allora i discepoli intervengono. E' Filippo che dice se noi spendessimo anche 200 denari non riusciremo a dare da mangiare a tutta questa gente. Quindi il suo ragionamento umano cade nel vuoto, nel nulla. Interviene Andrea e dice qui vicino a me c'è un ragazzo che ha cinque pani e due pesci ma mi sembra una cosa inutile. E Gesù dice fatelo venire, ecco, cinque pani e due pesci. Gesù fa riunire le persone che erano un numero di circa cinquemila in gruppi, ecco. E comincia a moltiplicare a moltiplicare il pane e i pesci. E c'è da mangiare per tutti quanti fino a sazietà. Non solo, ma avanzeranno dei pezzi di cibo che raccolti in dodici ceste costituiranno diciamo la riserva ancora per il loro cammino. Quindi in questo miracolo a pochi giorni dalla Pasqua Gesù annuncia la realtà nuova che realizzerà dopo la sua risurrezione. È una profezia quel miracolo di quello che avrebbe fatto Gesù dopo la risurrezione. Cioè avrebbe riunito i fedeli in gruppi. Si viene da pensare alle diocesi, alle chiese, alle chiese locali e avrebbe dato loro la possibilità di nutrirsi del pane eucaristico e dei pesci. Che cosa rappresentano i pesci? Rappresentano il battesimo, la grazia del battesimo. Ricordate vi farò pescatori di uomini. Ecco i battezzati, la grazia del battesimo e la grazia dell'eucaristia. Il comando di raccogliere i pezzi avanzati che si traduce in pratica nella cura verso i frammenti anche dell'eucaristia che non vadano perduti. E la chiesa deve avere questa cura e mantenere questa riserva nel tabernacolo per l'adorazione. Insomma, Gesù aveva già pensato a riempire di doni la sua chiesa nel futuro. Ma a quel punto vogliono farlo re e Gesù non accetta la regalità di questo mondo. Non accetta la gloria di questo mondo e se ne torna via tutto solo. Quindi riprende, carissimi fratelli, la nostra quaresima, una quaresima un po' speciale quest'anno costretta, diciamo, dagli eventi, permessa da Dio. Perché riflettiamo. Riflettiamo sul fatto che noi siamo stati acquistati a caro prezzo, siamo stati liberati e non dobbiamo tornare schiavi del peccato. Gesù permette questo perché noi ci allontaniamo da tutte le forme di peccato e ci verrà di nuovo a liberare. Sia lodato Gesù Cristo in nomine Patris et Fili e Spiritus Sancti. Amen.